Un trafficante di droga è stato arrestato in A1 mentre si stava dirigendo verso Roma dopo essere entrato in Italia dal valico di Villesse in provincia di Gorigo. È accaduto nella serata di martedì nel Val d'Arno quando una pattuglia della sottosezione di battifolle della polizia stradale ha adocchiato una Renault con targa serba condotta da un 27enne originario proprio di quel paese. I poliziotti guidati dal loro intuito lo hanno fermato e sbirciando all'interno dell'abitacolo hanno notato sotto la mochetta alcune saldature sulla lamiera come se fosse stato creato un doppio fondo. A quel punto hanno condotto l'uomo in caserma e smontato il sedile lato passeggero hanno scoperto che sotto era stato ricavato un vano molto capiente ma con niente all'interno. Gli investigatori non si sono arresi tant'è che hanno smontato pure il sedile lato guida e nell'andare a fondo hanno accertato la presenza di un altro incavo con all'interno sei pacchi contenevano circa sei chili e mezzo di roina che piazzata sul mercato avrebbero fruttato oltre 30.000 euro. La polizia stradale ha arrestato l'uomo per traffico di droga che è stata sequestrata insieme dall'auto e da alcuni telefonini. Le indagini proseguono per scovare eventuali complici.